La legale rappresentante della 2FNDL Nadia Indelicato e il commissario d'acta nominato dal TAR per sostituire giunta e consiglio comunale di Sciacca Orazio Menta hanno sottoscritto nei giorni scorsi la convenzione che prelude il rilascio della concessione per la costruzione incontrata a basi di quello che è stato denominato Ratail Park Isola, un parco commerciale che avrà 15 punti vendita su una superficie complessiva di 55 mila metri quadrati di cui 14 mila raccoperti, 800 parcheggi, un investimento di oltre 10 milioni di euro che in prospettiva garantirà 200 posti di lavoro, lavori di costruzione che dureranno un paio d'anni ed è già iniziata la commercializzazione degli spazi prima di essere stato venduto quello a McDonald's, un progetto tribolato in applicazione per la prima volta in Sicilia della nuova legge regionale approvata nel 2020, la precedente risaliva al 1978 e che probabilmente dal punto di vista dell'avvocato amministrativista Calogero Marino è stato il motivo per il quale gli uffici del comune non hanno riscontrato tempestivamente il progetto in questione. La procedura addirittura è stata avviata a ottobre il 2021, dopo diverse diciamo tribolazioni perché comunque l'ufficio preposto non aveva poi provveduto a definire l'iter, siamo stati costretti ad adire il Tarsicilia Palermo il quale ha accolto il nostro ricorso, ha commissariato il comune di sciacca nella sua interezza perché poi c'è stata una seconda pronuncia del Tars Palermo che ha specificato, accogliendo le mie stanze per conto della società ovviamente, ha specificato che il commissariamento riguardava il comune nella sua interezza. Diciamo il commissario d'acta aveva il compito di definire la procedura fino all'ultimo atto che è quello convenzionale che è stato stipulato venerdì scorso. Questa cosa cosa ci dice anche rispetto ai tempi lunghi? C'è un investimento, un investitore che chiede al comune i titoli per edificare e il comune non risponde. Qui dobbiamo dire che era una procedura nuova perché è stata approvata dalla legge regionale 19 del 2020, è il primo piano particolarizzato di attuazione ed è stato il primo approvato in Sicilia per cui è un unicum approvato e definito, quindi mi rendo conto che magari questa procedura aveva delle peculiarità che potevano indurre a una particolare prudenza, però il percorso era assolutamente corretto e questo è certificato da ben due pronunce del Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana di Palermo e quindi comunque si è perso del tempo sicuramente e ora speriamo di recuperarlo nella fase della progettazione definitiva e del rilascio dei permessi di costruire. Da questo investimento il comune di Sciacca incamererà 1 milione e 600 mila euro in onere di urbanizzazione, compreso le opere a scomputo, diciamo l'importo è quello. I prossimi passaggi quali saranno? Allora, i passaggi saranno, intanto è già in atto e comunque era necessaria la formalizzazione e l'approvazione della convenzione, la stipula, la cosiddetta commercializzazione degli spazi. Uno degli spazi è già stato acquistato da McDonald, la grande catena alimentare McDonald Italia che ha creduto molto nella ubicazione e quindi questo già è il primo spazio commercializzato. Poi ci sarà la fase della progettazione definitiva e del rilascio dei titoli abilitativi per la concreta instaurazione e definizione del cantiere che si stima nell'arco di un paio d'anni e a proposito, proprio per cercare di velocizzare, già nella fase della commercializzazione verranno sottoposti all'ufficio competente del Comune di Sciacca la progettazione definitiva, così da cercare di velocizzare e recuperare il tempo perso. Approfitto solo per dire che è stato un grande lavoro di squadra perché abbiamo dei tecnici di grande valore, parlo dell'ingegnere Sorce, dell'architetto di Cuori, l'ingegnere Mondo, il dottore Lazzara, il geologo e l'ingegnere Di Marco, una squadra che la società sicuramente vuole ringraziare e mi associo anch'io perché sono stati molto utili. Il tema riveste anche valore politico perché si inquadra in un territorio dove le attività commerciali del centro storico da tempo non nascondono i propri timori anche se sono consapevoli che un'ampia fetta di popolazione s'accensa ogni weekend si sposta per raggiungere in ogni caso le grandi aree commerciali da Castelvetrano ed Agrigento.